Ciao bambini, benvenuti nella nostra cucina piccolini e oggi faremo una ricetta con i fiocchi bisogna rispettare due regole la prima regola è quella di essere sempre ordinati come lo siete voi, guardate bene, guardate con questo bel grambiule adesso lo devo indossare anche io il grambiule, vero? subito arrivo, un attimo solo, eccomi qui eccomi qui, eccolo qui, bel grambiule eccolo qua mi fai un bel nodo, brava, brava anche il movimento lo sai fare? no, mi sto fermo, mi sto fermo scendendo le scale no, neanche la seconda regola, molto importante vi faccio vedere tre oggetti il primo oggetto è questo, che cos'è? un? benissimo il secondo oggetto invece è questa, sapo? bravissime e adesso il terzo oggetto che abbiamo qui è un? pazzarello ah, un mattarello, perfetto quale di questi tre oggetti ci occorre prima di cucinare? prima di iniziare a cucinare? dillo tu una saponetta bravissimi lo sapete perché? perché in cucina l'importante è essere sempre puliti benissimo e allora tutti quanti con le mani su che passerò io tra di voi a lavarvi le mani ecco qui mano destra mano sinistra mano destra mano sinistra iniziamo la nostra ricetta con i fiocchi e iniziamo a cucinare andiamo tutti quanti in piedi pronti facciamo un grande applauso 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 fortissimo e allora iniziamo subito a cucinare grazie a tutti grazie a tutti